La storia di Silvio Berlusconi è qualcosa che conosciamo tutti, ma la cosa che interessa a noi oggi è il lato oscuro che ha accompagnato a doppio filo la vita di Berlusconi, dal privato all'imprenditoria fino alla politica. Ma c'è un'informazione importante che fa parte dell'infanzia di Berlusconi ed è fondamentale per il nostro racconto. Questa è la figura del padre, Luigi Berlusconi e questo perché era un dirigente o meglio il procuratore della banca Rasini e questo istituto finanziario è il punto centrale dell'inizio della nostra storia. Questa banca Michele Sindona la descrisse come lo sportello della mafia nella città di Milano e le sue dichiarazioni vennero confermate, perché tra i suoi correntisti c'erano Pippo Calò, Totò Rina e Bernardo Provenzano. Ma passiamo al 1954. Questo è un anno importante perché Berlusconi prende la maturità dai salesiani e si iscrive a giurisprudenza. Ed è proprio lì, tra le aule universitarie, che conosce un giovane studente palermitano, Marcello Dell'Utri, un personaggio che diventerà fondamentale per tutta la vita di Silvio Berlusconi. Il suo corso di studi finisce nel 61 con la laurea in legge ed è proprio da quel momento che inizia la sua carriera nel settore edilizio. Parte tutto da una fideiussione da 100 milioni di lire e questa viene data in garanzia dal banchiere Carlo Rasini, che era il datore di lavoro del padre. E con quella fideiussione acquista il primo terreno in via Alciati. Poi, dopo due anni, nel 1963 fonda la Edil Nord, dove però Berlusconi non risulta il proprietario, ma un socio d'opera. Ma non è solo perché ci sono altri soci. Uno è Carlo Rasini e l'altro è un commercialista svizzero che garantisce al nome di una finanziaria di Lugano, con un nome pressoché impronunciabile, la Finanzierung Gesellschaft für Residenzen AG, di cui però non si conoscono i proprietari. Poi, con l'inizio del nuovo anno, inizia a costruire una nuova realtà, una città modello da 4.000 abitanti a Brugherio. E dopo circa 365 giorni, il primo condominio è già pronto. Purtroppo però Berlusconi non riesce a vendere neanche uno di quegli appartamenti. Ma nonostante questo, a un certo punto tutto l'edificio viene acquistato dal fondo di previdenza dei dirigenti commerciali. Dopo questa mossa passa qualche anno, è il 1968. È finita l'operazione Brugherio, ha venduto tutti gli appartamenti e la sua società, di cui non risulta proprietario ma è proprietario, cioè la Edilnord, compra per 3 miliardi di lire 700.000 metri quadri di terreni nel comune di Segrate. Ed è proprio lì che Berlusconi vuole creare una città satellite, Milano 2. Questa è un'operazione difficilissima, soprattutto perché i terreni non sono edificabili. E a maggior ragione, la motivazione è perché sopra quei terreni c'è tutto lo spazio aereo dell'aeroporto di Linate. Ora è chiaro che cambiare le rotte aeree e ottenere un'edificabilità sembra quasi impossibile. Ma Berlusconi a questo non ci sta e la prima mossa che fa è regalare a un prete affarista che conosce 46.000 metri quadri di quei terreni a Segrate. Quel prete affarista è Don Verzee ed è colui che costruirà su quei terreni l'ospedale San Raffaele di Milano. Dopo questo regalo, inizia la costruzione e neanche parte, Berlusconi decide di andare alla direzione generale dell'aviazione civile. Arrivato lì, prova a convincere degli alti dirigenti sull'eventuale spostamento delle rotte aerei e lui lo giustifica come qualcosa di assurdo. Far atterrare gli aerei proprio sopra un ospedale dove ci sono i malati. La parte più oscura è che nessuno controlla effettivamente che la presenza dell'ospedale ci sia, anche perché in quel momento più che un ospedale era un enorme cantiere a cielo aperto. Ma nonostante questo, quelli della direzione generale, o meglio, dei dirigenti, decidono di spostare quelle rotte da un centro disabitato, Milano 2, che era ancora in totale costruzione, a un centro decisamente abitato e popolato, Segrate, dove 200.000 persone già ci abitavano. Da quel momento, col cambio delle rotte aerei, i terreni di Berlusconi raddoppiano come ovvio che sia, e il valore passa da 200.000 a 400.000 lire per metro quadro. Oltre al fatto che molti abitanti di Segrate, disperati dall'inquinamento acustico, iniziano a cercare casa proprio in quella che sarà Milano 2. E legato a questa vicenda, nel 1974 il pretore di Monza, che era Nicola Magrone, condannerà il direttore generale Paolo Moci, il direttore dell'aviazione civile, per disturbo di quiete pubblica, per danneggiamento dei comuni, in cui le rotte sono state spostate, e in più definirà il San Raffaele, un ospedale dai connotati molto ambigui. Ma superato questo ostacolo, non è finita qui, perché ce n'è un altro molto grande che impedisce una regolare costruzione. Infatti, quei terreni sono ancora sprovvisti della licenza edilizia. Quindi, per il momento, i lavori sono abusivi. Il fatto curioso legato a questo è che durante il processo legato a delle tangenti, Berlusconi viene interrogato. In quel frangente dichiara ai giudici, sotto forma di battuta, che all'epoca bisognava andare negli uffici regionali con l'assegno in bocca. Poi, davanti allo stupore dei giudici, ritratta in qualche modo dicendo che era semplicemente una battuta, uno scherzo. Ma comunque nel mentre, Berlusconi continua sia a costruire che a fondare nuove società edilizie. Per esempio, abbiamo citato la Edilnord, che viene messa in liquidazione e sostituita dalla Edilnord centri residenziali di Lydia Borsari. Ora, chi è questa Lydia Borsari? La Borsari è una cugina di Berlusconi, che diventa socia di questa nuova società costituita. Condivide la proprietà con un altro socio, che è una misteriosa finanziaria svizzera di Lugano. Il nome di questa finanziaria è ancora una volta impronunciabile, almeno per noi in Italia, e si chiama Aktiengesellschaft für Immobilienlangen in Residence Zentrum AG. Anche di questa finanziaria, il capitale iniziale, cioè quello che viene versato, risulta di ignota provenienza. E poi c'è un'altra società, la Italcantieri SRL, che è legata a due strane finanziarie di Lugano, la Configen, legata al finanziere Tito Tettamanti, e la ETAG Holding, legata al finanziere Ercole Donnelli. Ma mettendo un attimo da parte il capitolo dell'edilizia, arriviamo al 1973, un anno importantissimo per Silvio Berlusconi. In quest'anno avviene l'acquisto di Villa San Martino, la storica villa nel comune di Arcore. Per capire questa vicenda, dobbiamo partire da un personaggio, Umberto Previti, un avvocato che fa da prestanome in una società di Berlusconi chiamata Idra. Oltre a fare l'avvocato, Previti è anche il protettore di Anna Maria Casati Stampa, una ragazza minorenne che fa parte di un'importante famiglia nobiliare di Milano. La famiglia Casati Stampa è proprietaria di numerose residenze di grande pregio, tra cui Villa San Martino ad Arcore. Ma in tutto questo, che c'entrano i giochi sessuali della famiglia Casati Stampa con questa storia? Per capirlo, dobbiamo inserire un terzo personaggio, Massimo Minorenti, uno studente di scienze politiche che era stato pagato dal Marchese Camillo Casati Stampa per avere rapporti sessuali con la moglie. Il Marchese amava vedere la moglie che faceva sesso con altri uomini. Questo dettaglio privato, apparentemente poco importante, diventa significativo perché la residenza di Villa San Martino è il centro di tutta questa vicenda. Infatti, la famiglia Casati Stampa decide di vendere la proprietà a un amico molto facoltoso, che non è altro che Silvio Berlusconi. Berlusconi acquista Villa San Martino per soli 500 milioni di lire dell'epoca, una somma estremamente bassa considerando il valore inestimabile della villa. L'acquisto avviene tramite azioni di alcune società immobiliari di Berlusconi, che però non sono quotate in borsa. Quando Anna Maria decide di trasferirsi in Brasile e vuole trasformare le azioni in denaro liquido, Berlusconi ricompra quelle azioni, offrendo circa la metà del prezzo concordato. Quindi, alla fine, Silvio Berlusconi diventa proprietario di Villa San Martino per soli 250 milioni di lire. È importante sottolineare che la villa diventa successivamente garanzia per un finanziamento da 7 miliardi e 600 milioni di lire, richiesto da Berlusconi alle banche Cariplo e Monte dei Paschi di Siena. Nel 1974 Berlusconi si trasferisce ufficialmente nella villa di Arcore. A quel punto richiama Marcello Dell'Utri, che era tornato a Palermo, e gli chiede di diventare segretario e prestanome nell'immobiliare San Martino. Ma la scelta di richiamarlo non è solo dettata da questo motivo, perché in quegli anni Silvio Berlusconi è terrorizzato dai sequestri di persona, un momento drammatico per l'Italia. Quindi chiede aiuto all'amico Marcello, che si mette immediatamente all'opera. Dell'Utri ingaggia Vittorio Mangano, un mafioso palermitano legato a Pippo Calò, per gestire la sicurezza della villa e proteggere la famiglia di Berlusconi. Mangano diventa lo stagliere di Arcore pubblicamente, ma in realtà il suo ruolo va ben oltre quello di uno stagliere. È un collegamento diretto con Cosa Nostra e riceve regolarmente denaro da Berlusconi per la protezione. Mangano viene coinvolto anche in attività di traffico di droga e riciclaggio di denaro sporco a Milano. Nonostante due mandati d'arresto, Mangano viene sempre accolto nuovamente a Villa San Martino, fino al 1976, quando lascia definitivamente la villa e si trasferisce a Milano. Tuttavia Berlusconi continua ad affrontare le minacce di sequestri e decide di trasferirsi temporaneamente in Svizzera e poi in Spagna con la sua famiglia. Quando decide di rientrare in Italia, Berlusconi inizia a creare un esercito privato per proteggere se stesso e la sua famiglia. Nel 1978 entra a far parte della loggia massonica Propaganda 2, P2, grazie all'introduzione di Roberto Gervaso a Licio Gelli. Da quel momento Berlusconi ottiene crediti agevolati da banche come la BNL e la Monte dei Paschi di Siena, entrambe con affiliati alla loggia P2 al vertice. Nel 1979 Berlusconi diventa ufficialmente presidente della Fininvest e completa la costruzione di Milano II. Tuttavia, nel 1979 viene avviata un'indagine da parte della Guardia di Finanza sulla società Edilnord Centri Residenziali per un illecito amministrativo e l'ipotesi di un reato di estrovestizione da parte di Berlusconi. Durante l'ispezione, Berlusconi nega di essere il proprietario dell'Edilnord e dichiara di essere solo un consulente incaricato della progettazione. Tuttavia, le prove raccolte indicano un coinvolgimento più diretto da parte sua nelle attività della società. Le indagini evidenziano transazioni finanziarie sospette e flussi di denaro che sembrano collegare direttamente Berlusconi all'Edilnord. Nonostante le affermazioni di Berlusconi, la sua figura risulta centrale nelle attività dell'Edilnord. Ci sono documenti che dimostrano la sua partecipazione nella creazione e gestione della società, tra cui i contratti, accordi finanziari e comunicazioni interne. Inoltre, testimonianze di ex dipendenti e collaboratori rafforzano l'idea che Berlusconi fosse coinvolto in modo diretto nelle decisioni chiave e nel controllo operativo dell'Edilnord. Le indagini iniziano ad approfondire anche altre società collegate a Berlusconi, come la Italcantieri SRL, la cui struttura societaria presenta anomalie e collegamenti con finanziarie estere sospette. L'obiettivo delle indagini è di stabilire se ci siano violazioni delle leggi finanziarie e se Berlusconi abbia utilizzato queste società per scopi illeciti, come evasione fiscale o riciclaggio di denaro. La vicenda si svolge in un clima di grande tensione politica, perché Berlusconi è già una figura di spicco nel panorama italiano e ha un forte impatto nell'ambito imprenditoriale e mediatico. La sua affermazione di essere solo un consulente e non il proprietario dell'Edilnord potrebbe essere un tentativo di minimizzare le sue responsabilità legali e di preservare la sua immagine pubblica. Le indagini sull'Edilnord e le altre società collegate a Berlusconi si protraggono nel tempo, coinvolgendo diverse istituzioni giudiziarie e organi investigativi. L'esito finale di queste indagini e le conseguenti azioni legali avranno un impatto significativo sulla carriera e sull'immagine di Berlusconi, nonché sul contesto politico e sociale dell'Italia. Se hai trovato il video interessante, non dimenticare di lasciare un like, iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche. Al prossimo video!